E ricordate sempre, gli insetti mangiano le api senza chiedere per favore. Ecco perché noi non dobbiamo fidarci degli altri insetti mai. E se invece sono amici o gentili con noi o se ci serve aiuto? Preferirei morire piuttosto che chiedere aiuto a un altro insetto. Ma non trovi che sia stupido? Beh, sì, forse sì. Signorina Cassandra, ti avverto, basta interruzioni! C'è qualcosa che vuoi dire, 396? Bene. Ma io ho conosciuto un insetto gentile e non mi ha mangiato! Come fai a credere che il prato sia pericoloso? E non ha senso dire che i cabroni sono cattivi se non ne hai mai visto uno! E chi è questo gorgo? Perché un ape non può ridere, ballare, giocare o uscire dall'alveare quando ne ha voglia? Solo perché un acida vecchio ape non vuole farci divertire e cantare! Basta così! Tu sei sospesa dal primo volo! E da tutti gli altri voli!